Nessun accordo non è stata trovata all'intesa tra i vertici dell'autorità portuale di Civitavecchia e le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti dell'ente. L'incontro, convocato dal presidente Musolino per tentare di scongiurare i cinque giorni consecutivi di sciopero, si è concluso con una fumata nera. Quindi i sindacati Filt CGL, Filt Cisle, Wilt Trasporti e UGL Mare e Porti hanno confermato la totale astenzione dal lavoro del personale da lunedì 18 a venerdì 22 marzo. La protesta, come si ricorderà, è iniziata dopo che il Comitato di Gestione ha deciso di annullare unilateralmente il contratto di secondo livello dei dipendenti che era stato sottoscritto a dicembre 2022, ovvero meno di un anno e mezzo fa. Un atto, quello del Comitato di Gestione, seguito poi da un decreto col quale il presidente ha ridisegnato i contenuti del contratto integrativo. Decisioni che hanno trovato la ferma opposizione delle organizzazioni sindacali, le quali, qualche giorno fa, facendo riferimento ad una recente sentenza della Corte Costituzionale, avevano a loro volta proposto una nuova versione del contratto sulla quale, a loro giudizio, si poteva trovare convergenza e scongiurare lo sciopero. Ma la proposta evidentemente non è stata accolta dai vertici dell'ente. Al riguardo c'è da dire che Musolino, stando a quanto si legge in una nota diffusa in serata dalle organizzazioni sindacali, si è impegnato a contattare a stretto giro il Ministero Vigilante e Assoporti, l'associazione che raccoglie tutte le autorità portuali italiane, al fine di avere un parere sulla fattibilità delle proposte pervenute dai rappresentanti dei lavoratori.